Si allungano i tempi per la conversione in legge del decreto in frazioni e così slitta di almeno una settimana anche la discussione sulle centinaia di emendamenti presentati sul tema delle concessioni balneari. La scadenza del provvedimento resta comunque quella di metà novembre. Secondo fonti parlamentari, il governo sarebbe in attesa di riscontri da Bruxelles proprio sulle ipotesi di indennizie concessionari uscenti, oggetto di diverse proposte di modifica bipartisan. Che il decreto varato a settembre dall'esecutivo Meloni sia sbagliato per la causa balneare è emerso con chiarezza anche lunedì sera nella partecipata assemblea convocata all'idolica maggiore dalla CNA provinciale alla presenza dei parlamentari di zona e dei vertici dell'associazione di categoria. Noi auspichiamo che in base anche agli impegni che i parlamentari si sono presi questa sera rispetto anche alle nostre richieste ci sia la possibilità di interventi significativi nel corpo del decreto. Poi continueremo anche con la richiesta diciamo della categoria a tutti gli amministratori locali di approfittare di questo prolungamento per non mettere in campo le aste. Ma ammesso che il Parlamento riesca a varare l'eco indennizzo evitando la tagliola del voto di fiducia resta comunque lo scoglio dell'Unione Europea perché Bruxelles dovrebbe accordare una norma a favore dei concessionari uscenti che ha negato solo due mesi fa. L'aspetto positivo è che c'è stato un accordo in qualche maniera. Adesso bisogna lavorare, la diplomazia deve lavorare perché si comprenda dall'Italia verso l'Europa questo aspetto perché all'interno del Parlamento ci sono le forze che rappresentano la società e che vanta delle giuste prerogative.